Ale? 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 Dormivi? No. Io quando sto sdraiato così, che abbava la bocca e la mascherina, sono sempre mega vigile. Che vuoi? Perché la sei vestita da pendolare? Vado ad Altomonte. Ho trovato un pullman a 30 euro. Ma il matrimonio non è tra dieci giorni? Appunto, manca poco. Ma da che punto di vista? Non gliela voglio lasciare. E questa mi sembra un'affermazione importante, Sofì. Non ci vuoi dormire, poi domani ne parliamo con calma. Quella merda di mio fratello non può portarmi via pure Michela. È un vecchio che non si è mai mosso di casa. Non ha mai scelto niente, però si è preso sempre tutto. La renderai infelice sicuro, sicuro. Ok. Io non la voglio perdere. E forse, forse, l'ho sempre amata. Ma mi sa che a questo punto non è lo stesso per lei. Ale, lei mi adora. Ha sempre avuto una cotta per me. Che dici? Che dico? Sofì, tanto qualsiasi cosa dico ce vai. Io ci voglio provare. Ci devo provare. Mi copri quei torni? Sì. Io devo andarci. Ma non ti accompagni, Sofì, che devo dire? Fammi sapere che succede. No. No. No.